Ciao ragazzi e buon 2015, oggi sono qui per fare una nuova sfida con Stefano e oggi sarà una sfida tremenda, voglio raccontare tu? È simile a quella dell'altra volta, molto simile, cioè simile cosa, prima raccoglio il cuffio e adesso con i cibi, devi sempre cercare di indovinare qualcosa, però stavolta sono invece di essere parole o frasi sono cibi, in pratica ragazzi stiamo facendo una blindfold challenge, perché non sapesse che cos'è, in pratica ragazzi, io ho preparato tre pietanze disgustose, che lui dovrà assaggiare e indovinare gli alimenti che ho utilizzato, sono tre a testa, quindi il video non sarà neanche tanto lungo, vi dico subito di passare nel canale di DJ Inferno e di iscriversi a questo canale, a canale anche di DJ Inferno, lasciare un like, commentare, quindi noi ragazzi ci vediamo appena cominciamo, bella! Ok, sono pronto per farti morire, andiamo con la prima, poi intanto metterò tipo tutte le descrizioni, ok, apri la bocca, cos'è quello schifo? Apri la bocca, apri la bocca, dai! Ahahahah! Ahahahah! Maccia di merda! Bastardo! Ahahahah! Cosa che era? Maledetto! Cos'è che era? Ahhhh! Ahhhh, tipo patatine col sale! E poi? Cazzo ci hai messo poi? Ahahah! Devi indovinare! che cazzo è qualcosa di amaro non lo so patatino col sale e le alghe e la buccia di mandarino è schifo bastardo ok partiamo col secondo questo è veramente schifo che cazzo è Luca dai apri la bocca apri la bocca apri la bocca ma andò giù che cazzo è ora dai provo a indovinare vaffanculo il posimo è il più bastardo di tutti Luca fai l'inchiata quale mamma mia non mi vendico che schifo che cos'era? cazzo ne so era il tarallo col caffè e la mazzarella brutto bastardo passiamo con l'ultimo ok allora questo è veramente bastardo perché io sono il mago di bastardo che ci hai messo maledetto aspetta non sto facendo la bocca la mia bocca la mia bocca no vi dà la mano schifo schifo schifoso zucchero velo zucchero velo biscotto per cari pezzo di merda ai mamma si 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 va bene ciò andò vai adesso toccalo io e se l'ho vendato mi addio ora tocca a me pressione non c'è ma chissà che cosa cosa metterai il biscotto per cari intanto che intanto ne approfitto ragazzi io vedo sto venendo una colla quando vedo i video ok le video lezioni ci sono però ovviamente i primi tempi ragazzi le visualizzazioni c'erano molti mi ricordo la prima sfida con lui siamo arrivati a 69 penso di visualizzazioni quasi 70 visualizzazioni il primo mix che ho fatto è arrivato più o meno a 50 visualizzazioni poi ho visto che comunque c'è stato un calo ma tipo le visualizzazioni andavano un po' più in giù tipo da 70 siamo passati vabbè da 70 siamo passati a 40 da 40 siamo passati a 20 e poi a 20 siamo passati a 13 io vedo degli scritti che sono un po' pigri non per fare il bastardo però dico vedo degli scritti che sono un po' cioè io non mi vido continuo a dire di lasciare un commento mettere un mi piace però non li vedo sia a questi mi piace che a questi like cioè sia a questi mi piace che a questi commenti cioè secondo me non ci vuole tanto scrivere un commento sotto anche bella fatemi un'altra che magari mi fate divertire non ci vuole tanto io ho anche un piccolo commento anche come se siete dei grandi controlli così magari qualcosa che magari non vi piace anche i like ho 12 iscritti almeno 12 like cioè almeno 5 like che voglio avere cioè non so se viro troppo però dico voglio un po' più di partecipazione nei miei vostri confronti quindi ragazzi speriamo io lo devo sfogare perché non ce la facevo più vedo degli scritti pigri anzi lo ripeto vedo degli scritti pigri perché comunque uno che iscrive il mio canale voglio vedere che comunque si iscrive al mio canale perché vuole vedere i miei video e vuole anche magari divertirsi in qualche maniera perché comunque io mi ricordo che il primo video è arrivato a più di 50 visualizzazioni e subito dopo ho fatto la sfida che è arrivata a 70 visualizzazioni io dico però quelle 70 persone che hanno visto quel video voglio sapere perché non lasciano un commento perché non lasciano un like questo che voglio sapere io magari non sono manco iscritta al canale però dico sì è vero a parte che per iscrivervi per lasciare un commento e per mettere un canale però potrebbero oh cazzo è arrivato bene ragazzi se questo video vi è piaciuto fatemi scrivere e commentate sicuramente qual è stata la migliore reazione allo schifo è il cibo più disgustoso secondo voi ah comunque se volete risaperlo io ho fatto la patatina col sale le alghe e il pezzo di buccia di arancio il fatto anche il pezzo di di finocchio poi ho fatto il cioccolato fondente il cioccolato fondente con il biscotto per cani il biscotto per cani e il zucchero a velo schifo e dopo ho fatto no sono due ah il tarallo con il caffè e la e la cosa si e la mozzarella sono stati la brioche con dentro il bicarbonato la brioche con il finocchio e la patatina con l'acqua quindi ragazzi scrivete sotto nei commenti quale è stato il cibo più disgustoso e quale è stata la reazione più schifosa vi ricordo di tenere d'occhio al discorso che ho fatto prima quando lui non c'era comunque finalmente d'occhio fateci un pensiero vi ricordo ancora di iscriversvi di lasciare un like di commentare quindi ragazzi se non ci si becca in un nuovo video brava ragazzi ciao a tutti